ok ragazzi buonasera a tutti buonasera a tutti partiamo con lo streaming questa sera con city skyline allora faccio una premessa adesso perché ho fatto qualche prova ragazzi e in realtà non è che vada fluidissimo quindi questa sera facciamo un test perché vedete che io riesco a streamare giochi diciamo strategici o gestionali come sim city e the sims però provando questo city skyline ho notato che non è propriamente leggero o meglio la mia connessione è pessima quindi non è che riesca a streamare più di tanto e però ho notato che con questo titolo non va benissimo infatti per quanto riguarda la la qualità non ho messo 720p ma ho messo 480 messo a 480 quindi dovreste vederlo meno bene diciamo rispetto alle altre sere e spero che non ci siano scatti ogni tanto c'è qualche piccolo problemino dal punto di vista appunto della scattosità soprattutto quando vado magari a zoomare sul sulla città quando c'è molto traffico quando ci muoviamo diciamo con la visuale molto velocemente però io ho detto vabbè questa sera proviamo se poi proprio non non ce la facciamo ragazzi pazienza mi dispiace perché questi giochi si prestano molto agli streaming perché essendo gestionali richiedono un bel po di tempo e un po di tranquillità quindi magari la sera così per farci due chiacchierate ci facciamo degli streaming su questo gioco però come detto ci proviamo ci proviamo questa sera è un test per quanto riguarda il gioco se non sbaglio dovrebbe costare sui 29 euro 29 90 diciamo sui 30 euro e tra l'altro come potete vedere siamo sulla pagina principale e un'altra cosa che aspettate che mettiamo il loghetto mettiamo il loghetto non c'era il loghetto ce lo inseriamo potete vedere come già sullo steam workshop perché questo è un gioco che comunque sarà su steam ci sono già delle mod dei tool che hanno aggiunto possiamo andare in realtà già qui a vederle a parte alcune mappe ora spero che oddio già sono sicuro che le scritte non sia facile per voi leggerle in realtà neanche per me perché come sapete li metto in finestra i giochi quindi quando le scritte sono un po piccole non è facile comunque dicevo ci sono queste nuove mappe poi ci sono vi avevo fatto vedere anche nei nei vari video che ho fatto oggi ci sono la possibilità di partire ad esempio con tutti i cosi unici vari stavo vedendo perché in realtà mi sta dando anche delle altre cose ora non so per esempio queste che non una notte queste all'inizio che non c'erano nel steam workshop come vedete qui neanche le da però nella pagina principale sì quindi evidentemente devono ancora aggiornare purtroppo come detto le scritte non è facile però pian piano come detto stanno uscendo dei tool delle mod magari chi già lo ha e sta facendo uscire queste cose e vi dicevo c'era la possibilità di sbloccare tutti gli edifici unici quelli che possiamo vedere all'inizio che ci sblocca man mano andando avanti così come la moneta infinita questo è fattibile magari per poter vedere un po come come funziona il gioco per farsi una specie di tutorial si può fare magari in quel modo avendo soldi infiniti comunque vi dicevo che già l'ho detto nel video di oggi che in streaming faremo un'altra città non quella della serie perché come detto calcolando che non si vede benissimo ci potrebbe essere qualche problema la serie sul canale voglio farla diciamo fatta per bene nel senso con video che si vedono bene si legge tutto e andiamo avanti quotidianamente se riesco a portarvi un video per la serie per gli streaming non so se riusciamo a farne più di uno o no però faremo un'altra cittadina quindi andiamo con una nuova partita e andiamo a scegliere un'altra un'altra regione avevamo fatto forse questo blackwood island island forse un po complicato no il gioco è completo ragazzi allora vediamo qui non c'è tantissima acqua dobbiamo scegliere una zona dove c'è anche abbastanza acqua perché l'acqua è fondamentale sia per lo scarto fognario sia che per l'acqua appunto utilizzare per la cittadina qui ce n'è abbastanza siamo lungo la costa magari possiamo fare anche una cosa del genere e dite ma noi abbiamo fatto forse questa riveran blackwood island island forse un po complicato va bene facciamo island vediamo ci proviamo ci proviamo intanto cerco di rispondere anche un po di vostre domande no in realtà per quanto riguarda gli upgrade credo di no non si possono fare gli upgrade per quanto riguarda le stazioni di polizia e altre cose si possono fare diciamo delle strade però comunque ti va a togliere ad esempio gli edifici che sono costruiti sul lungo la strada come è giusto che sia va bene partiamo da questa zona io cercherò di non fare troppo scattosa la cosa vediamo se ci riusciamo e quindi senza zoomare troppo velocemente se riesco allora per quanto riguarda la serie ragazzi la proseguiremo sul primo canale la serie che stiamo facendo mentre per quanto riguarda gli streaming li riporto sul secondo canale quindi questo streaming lo potrete rivedere sul secondo canale quando nei prossimi giorni diciamo allora per quanto riguarda l'ingresso nella città con la strada facciamo una strada più grandicella andiamo ad investire un pochino di più perché non è vero non lo possiamo fare perché giustamente non abbiamo le strade più grandi è vero adesso ripartendo da zero mi ero dimenticato allora andiamo a vedere facciamo come abbiamo fatto oggi solo che questa volta magari facciamo un'altra cosa su questa prima strada principale non ci andiamo a costruire niente in modo tale che poi la allarghiamo tra virgolette eh lo so purtroppo le scritte ragazzi a parte che ho difficoltà già io a leggere perché siamo in finestra quindi ho delle difficoltà anche io nella lettura delle scritte cercherò di farcela eh per quanto riguarda se è meglio questo simcity diciamo che dipende un po' dai gusti personali c'è da dire però che questo eh implementa molte di quelle cose che tutti si aspettavano in simcity come detto la città molto ma molto più grande ehm altri altri edifici che magari in simcity mancavano la possibilità di eh di gestire al meglio appunto la cittadina comunque ora prima cosa vorrei andare a vedere no non possiamo andare a vedere neanche la struttura della allora facciamo una cosa iniziamo a fare queste strade abusivissime laterali dove andremo a costruire un po' di tutto e facciamo una così lungo la costa perfetto e poi iniziamo a fare delle parallele ora come detto spero che non laghi troppo eh come detto ragazzi la strada principale l'abbiamo appena visto abbiamo sbloccato solo questa queste ce le ha sbloccate adesso che abbiamo fatto questo quindi l'andiamo ad upgradeare dopo per il momento ci facciamo queste qui quella la lasciamo senza costruirci niente sopra in modo tale che non ci vada a distruggere le varie case o fabbriche che ci metteremo andiamo a fare un po' una cosa abusivissima qui di lato le risorse non possiamo ancora controllarle è la prima cosa che ho fatto però come vedete andando qui ce l'ho da bloccato sono queste qui le risorse quindi purtroppo non ce le fa vedere le più che grandi opere ci sono gli edifici speciali adesso come detto non ve li posso ancora far vedere perché non non le sblocca ancora ancora non le abbiamo sbloccate comunque per fare l'upgrade delle delle strade possiamo andare con il punto esclamativo selezioniamo ad esempio questa qui però dobbiamo mettere ad esempio noi abbiamo queste sono tutte le strade che abbiamo fatto clicchiamo su questa qui punto esclamativo e ci va a fare come vedete l'upgrade di questo tratto noi facciamo questi due stradoni principali fatti in questo modo quell'altro poi vediamo magari le ricolleghiamo anzi lo facciamo subito dai ma questo riprende molto dei vecchi sim city per quello è stato che cos'è porca mignotta panico già iniziamo a far danni mi tolga questo punto esclamativo please se no ci va a rigosare ok queste le ricolleghiamo tra loro in modo tale che comunque nonostante siano dei vialoni però ci sia una certa comunicazione tra le strade poi vediamo in base alle nostre risorse dove costruire la parte abitabile quella che riguarda magari l'industria come prima cosa direi di andare a vedere l'acqua mettiamo play perché adesso non vediamo ok l'acqua scorre da sinistra a destra perché come ben sapete dobbiamo fare sia le fogne che l'acqua quindi dobbiamo un attimo trovare la situazione migliore mentre da quest'altro lato c'è un po' di ristagno per quanto vadano in basso vanno abbastanza lentamente peraltro qui non credo di riuscire a costruire queste cose no dobbiamo farle per forza da quest'altro lato quindi quindi l'acqua la prendiamo da qui perfetto ne mettiamo una al momento perché dobbiamo fare millemila chilometri di tubature per poter arrivare qui sotto lo facciamo così in modo tale da avere una specie di zona abbastanza complessa che però ci va a ricollegare un po' di tutto perfetto lo facciamo così come ho detto alcune volte magari ci sarà un po' di lag non lo so per il momento fatemi sapere voi come va come ho detto purtroppo graficamente non sarà il massimo perché non siamo a 720p però se è fruibile magari lo riproponiamo dai vediamo allora questa zona è tutta rifornita di acqua ed è perfetto così per quanto riguarda le fogne magari possiamo metterlo qui tra l'altro poi potremo sbloccare anche questo qui che è un il coso del sempre fognario però le filtra le acque quindi non sono così torbide tra virgolette però dobbiamo avere una popolazione di 14.000 quindi al momento non mi sembra il caso e mettiamo le fogne le mettiamo da questo lato anche se un po' torneranno qui ma comunque anzi altra cosa altra cosa noi eh il fatto che poi volendo ci espandiamo da qualche altro lato quindi qui non riusciamo a costruirle vabbè famo che le fogne le mettiamo qui no dobbiamo per forza metterle da quest'altro lato perché giustamente quella non è zona nostra va bene ne mettiamo una i tubi come detto sono in comune ragazzi quindi beh no in realtà 720 eh come risoluzione eh molto meglio perché si riesce a leggere tutto è quella la cosa positiva del 720 eh che si riescono a vedere meglio i dettagli eccetera eccetera però per il momento come detto non gliela famo ok come vedete spero che si riesca a vedere nonostante la qualità eh abbiamo un per quanto riguarda le tubature una barra verde che è quella delle fogne e una barra blu che è quella dell'acqua potabile e qui abbiamo il ehm il rapporto tra acqua disponibile siamo al massimo anche perché non c'è nessun abitante per quanto riguarda le fogne non è un problema eh ok come detto ancora non ci fa vedere le risorse quindi partiamo subito con piantare un po' di zona abitabile verde su verde quindi non si vede una sega qua vabbè intanto piazziamoci queste zone per quanto riguarda la popolazione come detto possiamo anche selezionare aspettate vediamo se prima possiamo selezionare anche una zona ad esempio quadrata così andare a dipingere diciamo noi o a selezionare tutta questa zona se la vogliamo fare abitabile in quel modo vedete oppure questo qui che ci fa selezionare tutto è comodo in entrambi i casi però ti da questi tool che possono essere utili perfetto facciamo così andiamo a dipingere tutta questa zona per la zona residenziale appunto e vediamo ora che inizieranno ad arrivare un po' questi soggettoni dobbiamo iniziare anche a fare una centrale elettrica perché giustamente ma in realtà come detto con sim city ci riesco a farlo così come ci riuscivo con 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 dei sims ci riusciamo altri strategici eccetera eccetera iniziamo a allora dobbiamo per le paleoliche ragazzi sapete perché non lo costruite perché ci vuole un fottio di roba fottio di roba nel senso che ci vogliono mille mila paleoliche quindi vediamo un po' dobbiamo metterla magari non troppo vicino alle abitazioni perché facciamo che la piazzo qui sotto perfetto e poi andiamo con i tralici li portiamo un po' in questa zona e un po' li riportiamo qui come detto i tralici così come diciamo per la corrente elettrica l'importante è che quando li andiamo a selezionare vadano a prendere la zona blu ora sono solamente queste le case abitabili se erano tutte le case abitabili potevamo metterne anche uno solo che arrivasse comunque nella zona azzurra per poter portare la corrente elettrica ora vediamo appena si attiverà la la centrale elettrica quindi rimettiamo riavviamo le scritte diciamo che non le leggo neanche io praticamente però si purtroppo quando si ingrandisce la c'è un po' un problema per quanto riguarda la possibilità di lettura e soprattutto inizia a diventare un po' pixeloso però purtroppo i pozzi petroliferi li potremmo mettere quando troveremo il petrolio al momento ancora non abbiamo la possibilità di vedere le risorse disponibili quindi per il momento non se buede per quanto riguarda bloodborne si lo faremo per lo streaming adesso ve lo dico ora perché no l'acqua dovreste avere ah no non ce l'hanno giustamente l'acqua perché non abbiamo portato l'elettricità nella zona guarda qua che cazzo dobbiamo fare cerchiamo di farlo un po' più dritto possibile non è vero perché non abbiamo soldi quindi è un problema possiamo chiedere un prestito no ancora no va bene aspettiamo che arrivi un po' di gente che non arriverà perché non ha l'acqua quindi in realtà possiamo costruire anche se avessimo dei soldi potevamo costruire questa qui 3.500 ci servono al momento stiamo perdendo in realtà quindi facciamo una cosa andiamo un attimo in pausa togliamo questo mi tolga direttamente questo qui possiamo anche spegnerlo in modo tale che andiamo a non perdere tutti quei soldi spegniamo anche questo qui visto che non funziona comunque vediamo se ce la facciamo ragazzi perché come detto poi al momento chiacchierando magari mi perdo qualcosa a parte che stiamo perdendo soldi questa è la prima cosa che stiamo stiamo andando già in debito in un debito abusivo vabbè magari falliamo all'istante potrebbe anche darsi vediamo vediamo comunque dicevo per quanto riguarda lo streaming magari faremo un'oretta poi se va bene proseguiamo altrimenti se non ce la fa lo streaming se la qualità è abbastanza pessima ci salutiamo però magari facciamo uno streaming di un'oretta poi una pausina e poi ripartiamo attila total war ci avevo pensato però si in realtà sapete qual è il problema che non si riesce neanche a leggere i soldi che abbiamo quindi non ci ho fatto proprio caso che stavamo già perdendo perché? perché in questa zona abbiamo l'acqua tutte le disponibilità molto lontane quindi abbiamo dovuto fare uno stradone da panico che ci ha fatto perdere un bel po' di soldi ora se qualcuno si insediasse qui per arrivare almeno a una popolazione di 400 persone potremmo sbloccare i prestiti una volta sbloccati i prestiti potremmo fare qualcosina in più non possiamo neanche costruire strade quindi adesso facciamo una cosa dobbiamo correre un momento ai ripari ragazzi andiamo a togliere questa zona qui ce la mettiamo commerciale poi vediamo poi ci rifaremo pian piano presumibilmente anche no la zona industriale te la piazzo da quest'altro lato perché al momento non posso piazzarla altrove e vediamo se rientrerà qualche soldo almeno con i prestiti l'importante è che venga qualcuno per il momento no siamo partiti malissimo sì perché non non avevamo calcolato benissimo la situazione socio-economica attenzione potrebbe essere il fallimento più veloce della storia sì meno 4 in discesa perché perdiamo la bellezza di 749 all'istante infatti che non le spese che abbiamo al momento sono questa qui in fondo che è 560 se la spegniamo non hanno neanche la corrente elettrica quindi potrebbero incazzarsi a bestia toglio questi qui magari riesco a chiuderlo eh vedete sono arrivati ma c'è un problema tattico vabbè vediamo se no ripartiamo subito che magari in un momento stiamo perdendo un pochino meno e attenzione un pochino meno ma comunque troppo qui giustamente se ne sono andati perché se non hanno l'acqua cosa ci vengono a fare per poter recuperare i cittadini sono scontenti si cazzo a quanto dobbiamo arrivare di cittadinanza 400 ma non ci arriveremo mai perché facciamo che proviamo una cosa estrema al limite cioè mettiamo anche zone cittadine qui poi rimodifichiamo tutto ci proviamo dai proviamo a recuperare questa situazione disastrosa il fatto è che ci servono troppi soldi perché sono a millemila chilometri i cosi quelli dell'acqua perché qui come vedete c'era il dirupo quindi non potevamo prendere l'acqua o facevamo un'autostrada fino a qui comunque avremmo speso millemila dollari se riusciamo ad arrivare a 400 possiamo chiedere un prestito che naturalmente non riusciremo mai a ripagare e andremo allo stesso in fallimento che cos'è che cos'è comunque come detto ragazzi il gioco non mi sta dispiacendo affatto è molto ma molto faigo allora siamo sull'orlo della bancarotta ma cos'è ci vogliono dare dei soldi ma va bene attenzione ci hanno dato dei soldi a gratis così e noi li accettiamo come se niente fosse perché eravamo sull'oro della bancarotta ora mettiamo un attimo in pausa attenzione e dobbiamo fare assolutamente pilastri elettrici per portino l'elettricità in questa zona ok almeno attiviamo le fogne e cerchiamo di risollevare un po' la situazione di questa cittadina messa alle corde già dai momenti iniziali non lo so se ci ha dato dei soldi perché gli facevamo pena o non saprei però magari adesso con dell'acqua che dovrebbe arrivare in linea teorica e arriva l'elettricità sti cazzo di cose allora giustamente li avevamo spenti magari se li riaccendiamo potrebbero andare meglio perfetto adesso con l'elettricità dovrebbe arrivare acqua e fognature eccetera eccetera siamo arrivati anche a 400 abitanti quindi possiamo chiedere dei prestiti e modificare le tasse fare una cosa per per raccattare la spazzatura scuola elementare clinica medica perfetto poi andiamo a vedere un attimo se possiamo queste case in teoria si potrebbero anche riempire pian piano ora vediamo non me le faccia abbattere perché se no fanno dei danni no per le tasse ragazzi per il momento non conviene aumentarle stiamo perdendo un pochino però conviene prima dedicarsi a a costruire altre zone ora magari da qui facciamo partire la strada principale non saprei magari proseguiamo con questa che è una strada abbastanza piccola magari teniamo i costi contenuti e da questo lato qui sopra senza ecco distruggere i piloni dell'elettricità iniziamo a fare una zona industriale che eventualmente ci farà fare un po' di sodio o comunque darà occupazione perché giustamente vogliono anche una zona industriale altrimenti chi ci viene vediamo perfetto allora iniziamo a mettere qualche industria qui poi controlleremo le risorse purtroppo per il momento ancora non ce le ha fatte controllare quindi ok anche qui direi che ci può stare andiamo a selezionare ci mettiamo un'altra strada qui così pian piano c'è una zona dedicata alle industrie forse è un po' troppo vicina le abitazioni però non potevamo rischiare di fare millemila chilometri di strada e poi non avere soldi quindi va bene così va bene così vediamo vediamo si però ste case non mi dica che me le devo abbattere io dai venite vele cos'è guarda questi vabbè gliela abbattiamo noi magari rimangono più sportiveggianti di prima in realtà dovrebbero poterlo fare da soli ora lo facciamo noi perché ci fanno perdere tempo dovrebbero ristrutturarli al volo non lo fanno diamo una ripulita a noi via cos'è la cittadina appena nata già ci sono millemila edifici abbandonati ok ripuliamo pian piano spero di non abbattere la casa di qualcuno che invece era beatamente rimasto ok abbiamo ripulito non è vero ce n'è un'altra perfetto ora momento in pausa perché dobbiamo andare su a dare l'acqua a questi tipi qua a questi delle industrie perché facciamo aspettate così se riusciamo a ricollegare queste strade prendendo tutta la zona è il massimo perfetto vediamo se riusciamo anche da qui così distribuiamo acqua e fogli anche a questi perfetto per quanto riguarda l'elettricità come vedete già ci passano dentro quindi prende tutta questa zona vai riproseguiamo perfetto perfetto allora vediamo se pian piano arriverà qualcuno per quanto riguarda le altre regioni che avevamo messo vabbè qui abitative possiamo eventualmente toglierle perché poi facciamo un po' di diramazioni per il momento non conviene lasciamo qua se no ci iniziano a costruire abusivamente in questa zona tipo questa casa prima o poi andrà abbattuta perché qua faremo stradoni ma noi abbiamo ripulito un po' dalle case che erano in disuso quindi va bene va bene dai qualcuno sta arrivando poi metteremo un po' di parchi al momento ancora non li abbiamo al momento però possiamo mettere magari una scuola quanto ci costa la scuola 10.000 però stiamo guadagnando quindi possiamo metterla la scuola la mettiamo nel pieno della zona abitativa così gli risparmiamo un po' di tragitto per arrivare a scuola fanno abbastanza presto perfetto comunque ogni tanto ragazzi fatemi sapere se lo streaming sta andando bene o se ci sono problemi sia di lag se graficamente fa cagare non lo so come detto purtroppo non non potevo fare di meglio si è rivelato più pesante del previsto attenzione siamo arrivati a una popolazione di 800 abitanti ora possiamo comprare un'altra piccola regione e vabbè ci sono i distretti le politiche secondo prestito l'industria specializzata servizio ok adesso come detto ragazzi le risorse ce le ha appena sbloccate adesso prima non ce le faceva vedere fino a quando non sblocca le politiche dell'agricoltura specializzazione forestale eccetera eccetera non ce le fa vedere poi ci sono anche le politiche come vi faccio vedere nei video forse proprio nell'episodio di oggi delle risorse che possiamo andare ad utilizzare ad ottimizzare l'utilizzo di queste risorse sia dell'acqua dell'energia elettrica e poi ci sarà anche dell'immondizia con la raccolta differenziata tra virgolette poi ci ha messo la stazione di polizia e i pompieri va bene 800 abitanti ci siamo adesso ci ha sbloccato questo delle risorse e possiamo vedere come qui ci sia una zona fertile per l'industria come abbiamo fatto anche sull'altra cittadina allora abbiamo il petrolio è in quest'altra zona qui sotto c'è del petrolio vabbè qui zona forestale qui vari metalli ci sono quindi è un po' complicato poi scegliere perché a sud c'è il petrolio in realtà anche qui ad ovest e a nord ci sono i metalli vabbè vedremo dopo comunque sappiamo che qui c'è una zona fertile che possiamo utilizzare per l'industria per l'agricoltura quindi va bene va bene questa zona quindi la teniamo in realtà si vede un pochino perché è una zona un po' più gialla quindi va bene aspettiamo un pochino che venga qualche altra persona ad abitare qui nella nostra zona non vorrei mettere subito la polizia e i pompieri perché ragazzi costano un bel po' quindi siccome non è che abbiamo tutta questa disponibilità al momento aspetterei un pochino facciamo che possiamo proseguire a fare le strade da questo lato facciamo sempre piccoline poi lì si ricollegheranno con la grande strada se mai riusciremo a poi faremo anche magari una curvona così ce la fai in automatico e ci piace qua ci andiamo a ricollegare in questo modo facciamo così lo facciamo anche qui per quanto poi lì si vada a creare un po' un imbuto ma va bene perché tanto l'importante è creare zone qui ora come vedete qui si è staccato il coso dell'energia elettrica perché evidentemente abbiamo fatto passare una strada sui pilastri quindi ricolleghiamolo l'importante è che sia nell'area della della centrale stessa cosa qui perfetto adesso dovremmo essere a posto ho selezionato anche questo qui che riguarda la raccolta dei rifiuti lo mettiamo in questa zona industriale magari facciamo un'altra cosa dov'è dov'è mettiamo questa strada qui che è un po' visuale così vediamo un po' meglio lo mettiamo qui la la mezza discarica in modo tale che non ci sia altro nei dintorni ok andiamo a prendere la discarica la piazziamo in questo lato certo è un po' troppo vicino all'acqua ma va bene meno partono i camion dei rifiuti visto che qui stiamo iniziando ad avere un po' di di problemi eh per il momento ragazzi aspetto a continuare la principale perchè abbiamo non abbiamo tantissimi soldi poi la principale siccome possiamo andare dall'altro lato possiamo volendo puoi togliere questa qui ora l'ho fatta per ricollegare poi faremo l'upgrade di questa zona qui per il momento abbiamo 43.000 forse ce la facciamo però forse ce la possiamo anche fare si i vigili del fuoco appena possibile li mettiamo perchè abbiamo un guadagno di 1.400 e i vigili del fuoco ci costano 5.60 quindi ci vanno a togliere un bel po' di guadagno aspetto che arrivi ancora un po' più di popolazione spero che non vadano a fuoco però per il momento era meglio si però sti tipi che raccolgono immondizia stanno lavorando che cos'è forse una è anche poca quanto ci costa la raccolta dei rifiuti 160 quindi ne mettiamo un'altra meglio meglio non fare i taccagni sennò si incazzano dovremo mettere anche un ospedale visto che fra poco inizieranno a morire per le discariche e va bene ok per il momento stiamo abbastanza coperti allora andiamo a questo qua faccio una cosa vado a distruggere direttamente questo pezzo così facciamo la super strada togliamo questo qui e proseguo con sempre le due parallele mi spiace per quello con quella casa che è spuosa perfetto anzi un'altra cosa che vi potevo far vedere era la rotonda che al momento c'è solo questa piccola quindi non conviene farla altrimenti creiamo il panico va bene e qua magari facciamo uno sbocco un po' più largo per poi riandare a collegare queste strade facciamo riusciamo a collegarle in un modo nell'altro magari un po' no eh perché lasciare le parallele mi sembra brutto quindi magari ne facciamo una che va da un lato sempre principale quanto ci costa duemila ci può stare e qui la facciamo ricollegare in modo tale che si vada a organizzare un pochino poi per quanto riguarda quelle piccoline eh ragazzi per forza dobbiamo ricollegarle perché sennò facciamo un macello al momento non abbiamo rotonde siamo arrivati a 1300 abitanti vai con le decorazioni e con la scuola superiore perfetto perfetto in realtà facendone un po' di più forse riusciamo a fare dei danni ok perfetto allora cittadini la zona residenziale è quasi tutta piena attenzione stanno iniziando ad andare a fuoco vabbè dai facciamo lì sta cosa dei pompieri che la piazzo un po' qui in modo tale che possa arrivare facilmente anche nella zona industriale visto che la zona industriale è quella più soggetta piazziamo anche un ospedale questo lo facciamo l'ospedale lo faccio sulla proprio qui all'incrocio della strada principale non mi sembra il caso facciamolo qua perfetto e la police la mettiamo vicino alle zone abitative non troppo vicino perfetto ok la cittadina è un po' più felice sono un po' più cazzo di cattive va bene aspettate perché dobbiamo giustamente mandare l'elettricità da questa zona come vedete siccome questa qui è già tutta rifornita di energia possiamo anche farlo partire direttamente da qui a qui solo che poi ci freghiamo un po' di zona come possiamo fare possiamo anche portare questi così dall'altro lato se riusciamo a saltare questo pezzo di strada perfetto facciamo così in modo tale che poi facciamo un'altra stradona lì va bene ok l'ospedale dovrebbe essere rifornito non so se ci arriva l'acqua si l'acqua ci arriva perfetto vediamo vediamo dai per il momento non stanno malissimo possiamo fare in realtà anche una scuola superiore però no non abbiamo soldi adesso guadagniamo molto meno tra poco quando magari saranno un po' più felici aumenteremo le tasse per il momento non lo farei perché vorrei si incazzassero chiedono un po' di zone commerciali quindi zone commerciali effettivamente ne abbiamo solo una e possiamo piazzarle tra la zona industriale potrebbe essere un'idea vabbè che la zona industriale ce l'abbiamo piazzata già qui quindi c'è una zona industriale che avevamo inserito in modo abusivo tra quella residenziale all'inizio perché stavamo rischiando il fallimento quindi abbiamo dovuto correre ai ripari vabbè zona commerciale questa qui se volete iniziate a costruire perfetto questo qui praticamente sono i tweet dei nostri collaboratori volendo anche se in realtà non me li sto cagando non me li sono mai cagati in generale però va bene va bene vediamo un po' se riusciamo a andiamo avanti un po' più velocemente dai ora siamo arrivati a mille settimane un po' sale ok ci sono dei nuovi edifici speciali come vedete questi che ci ha sbloccato però non possiamo ah no aspettate adesso uno ce l'ha sbloccato aspettate che rallentiamo il tempo se no non abbiamo il tempo di vedere ok ci ha sbloccato la statua dell'industria costa 20.000 mazzo aspettate che fatemi vedere se riesco a leggere aspettami allora ci serve per poter fare il progetto eden mentre quest'altro cos'è ok ah questo per fare lo space elevator attenzione va bene però visto il costo di queste statue direi di tralasciare al momento vediamo gli avvisi per il momento li togliamo anche perché non li riusciamo a leggere quindi per il momento sono superflui va bene ma in realtà l'area industriale anche se avvicina le case per il momento non fa neanche troppo danno quindi evidentemente non sono sì sono abbastanza aggressivi ma non va bene ok c'è ancora una domanda di zona residenziale torniamo a vedere qui le risorse perché questa era la parte più fertile quindi magari qua ce lo lasciamo questa zona continuiamo a farla per la popolazione continuiamo a fare le strade magari fatte in questo modo queste eh vabbè qua poi lo lo aggiustiamo quel coso perché dobbiamo fare per forza così poi troviamo una soluzione perfetto facciamo tutte diramazioni in questo modo così ok qui faremo la farming zone dove sono i pilastri dell'elettricità che li riattrezziamo al volo ok vabbè ci ha fregato un po' di zona però purtroppo questi li dobbiamo far passare pur da qualche parte centralmente non gliela famo andiamo a rimettere la zona per le case tanto comunque sono a bassa densità quindi si riescono ad inserire in quella zona ok forza horizon e the crew li ho già fatti sul canale potete trovarli quindi vediamo i prossimi cose che ci sbloccherà cosa sono sono adesso siamo a 1600 abitanti i prossimi ce li sbloccherà a 2002 i trasporti industrie ok riciclaggio le rotonde immense il cimitero che va bene e cosa dei bus va bene va bene ah questi ci richiedono acqua giustamente una nuova zona non c'eravamo ancora arrivati con l'acqua e facciamo sempre così e poi inizieremo a fare a raggera tra virgolette facciamo così che riusciamo ad occupare tutto ok perfetto qua l'acqua c'è andiamo un po' più giù in modo tale da coprire bene o male tutta la zona dai che ci frega tanto ci stiamo andiamo direttamente qui ok perfetto ad acqua siamo messi bene ok beh comunque si sono sistemati bene nella zona residenziale molto bravi adesso sto zoomando quindi forse laggerò un pochino però sembra che si siano sistemati bene beh tra dei crew e forza orison sicuramente preferisco forza orison ma di gran lunga binding of isaac ce l'ho in realtà però non l'ho ancora giocato in realtà tra lì ci vediamo appena perché come detto bisogna che si crei tutta la zona azzurra quindi aspetto ok adesso che si sono aggiunte le altre case possiamo in realtà non ancora toglierli perché come vedete non c'è poi non ci sarebbe collegamento con questa quando ci saranno altre case anche in questa zona possiamo toglierlo direttamente perché l'importante è che vada nella regione diciamo appunto dove ci sono tutti gli edifici no come detto ragazzi non ce la fa a 7.20 ho provato non gliela famo proprio mi spiace perché sicuramente si vedrebbe meglio però si adesso sto vedendo dove poter mettere altre zone per i negozi perché perché come detto questa è una zona agricola magari li mettiamo qui che sono comunque a confine tra una zona questo lo lo piazziamo così stiamo facendo delle strade un po' abusiva perché siamo partiti un po' tutti storti qua cos'è allora famo che ci mettiamo qua riadrizziamo un po' la situazione quello poi andrà perché ci dobbiamo comprare anche altri lotti quindi anche per quello questo lo facciamo dritto almeno ci risparmiamo i vari danni poi faremo anche delle rotonde abusivissime ok perfetto zona commerciale zona commerciale la piazziamo qui facciamo tutta una piccola zona dedicata al commercio vediamo se basta quella zona lì vedendo dall'alto poi the witcher 3 si probabilmente gli daremo un'occhiata non so se se farò tutta la serie però ok si stanno richiedono energia come mai chiedono energia elettrica è perché siamo arrivati al limite quindi quindi dobbiamo fare un'altra centrale elettrica la centrale elettrica si potrebbe fare nella stessa zona dove è quella precedente perché comunque ormai tra lì ci li abbiamo fatti farla qui siccome qui c'è quella zona agricola che non vorrei andare ad inquinare appena abbiamo i soldi necessari perché le paleoliche ragazzi costano troppo costano troppo per l'energia che fanno quindi al momento non ce la facciamo poi magari quando avremo un'altra zona più perché come vedete questa qui 19000 produce 40 megawatt mentre queste qui ne producono in base a dove le piazziamo da 0 a 8 andandole anzi aspettate facciamo così andandole a selezionare vediamo questa qui sopra è una zona come vedete dove riusciamo a prendere il meglio perché evidentemente tira molto vento il problema sapete qual è che poi si va a rimettere precisamente nella zona agricola quindi maledizione o mettiamo le paleoliche che comunque vabbè non è che sono inquinanti però o mettiamo l'industria agricola vediamo come riusciamo a piazzarci forse quale possiamo mettere però non abbiamo così tanti soldi da fare una cosa così abusiva aspettate facciamo una cosa dobbiamo portare questa strada qui e poi facciamo in questo modo perfetto ora controlliamo le risorse la zona agricola la facciamo all'interno mentre le paleoliche possiamo piazzarle qui da quest'altro lato vediamo dai dai facciamo un po' i quelli che non inquinano in realtà ne possiamo mettere quanto ci costano un po' tanto va bene metto un'altra qui poi vediamo e le colleghiamo con questo qui siccome questi hanno fatto tutto il giro famo direttamente così ok perfetto almeno le colleghiamo alla rete centrale visto che va tutta intorno alla cittadina in teoria adesso dovrebbe arrivare anche qui e infatti si sono spente le le richieste di energia elettrica va bene guadagniamo un pochino andiamo avanti velocemente così poi come detto questa zona facciamo ci sono ancora richieste per quanto riguarda i cittadini che tra l'altro gliel'ho messa questa zona scusate perché non venite ad abitare qui visto che non è vero non l'avevamo piazzata è qui perché abbiamo allungato le strade allora dobbiamo aspettare che ci vada a sbloccare eventualmente la possibilità di no qua ci faccio una scuola o un parco forse lo facciamo dall'altro lato vediamo allora proseguiamo con le strade perché ci stanno chiedendo zone cittadine con la pala quindi allora accontentiamoli come se non ci fossero domani e cerchiamo di fare una cosa vagamente apprezzabile per quanto siano storte da un lato all'altro qua se non fa tutta una cosa un po' particolare lasciate fare lasciate fare e non abbiamo più soldi vabbè allora piazziamole facciamo con questo che facciamo prima allora faccio così in modo tale che dipingo tutta la zona verde ok siamo arrivati a 2002 ci ha sbloccato un'altra zona trasporti rotonde a go go quest'altro tipo di paleoliche e un cimitero e i buzz va bene possiamo fare anche un po' di autobus così a gratis va bene allora ricontrolliamo le risorse perché non vorrei no vabbè può ancora andare bene questa zona dedicata alle abitazioni poi più da quest'altro lato ci mettiamo le industrie ok va bene zona abitativa spero che gli possa andare bene abbiamo riguadagnato un po' di soldi che avevamo finito per allora ricolleghiamo queste strade così in modo abusivissimo e allora qua dobbiamo portare sia le no l'elettricità forse no se riescono a costruire in modo veloce tutti quanti eh se qua si inseriscono decentemente forse riusciamo ad evitarci le le cose elettriche dobbiamo farlo un po' più in qua in modo tale da ricollegare tutto perfetto ok l'acqua arriva a tutti quanti l'elettricità si perché si stanno espandendo giustamente in questo modo perfetto si don't starve l'ho provicchiato perfetto allora adesso dovremmo stare abbastanza bene si si dai ora ora c'è un po' di richiesta commerciale che possiamo eventualmente piazzare in questa zona però facciamolo con questa riquadratura perché non vorrei ok nel centro di questa zona ricordiamoci che questa superstrada poi la manderemo da questo lato perché possiamo già da adesso in realtà acquistare nuove zone però direi che al momento conviene fare prima la zona industriale però non ci richiedono tanto la zona industriale in realtà tanto qua la nostra la merda della nostra cittadina sta inquinando un po' il fiume ma va bene va bene come detto al momento non mettiamo la zona industriale perché quando non ce la richiedono se noi la andiamo a piazzare comunque non ci va nessuno quindi attenzione che ci sono forse richieste di elettricità sì perfetto allora ripiazziamo queste paleoliche queste altre invece queste fa vedere che le piazza in acqua da 0 a 20 possono sviluppare la zona migliore è questa quindi qua ad esempio devono essere piazzate un po' ah no in acqua sì ma qua ne fa 6 cos'è sta roba ah questa sarebbe la zona ottima eh sto cazzo io non ce l'ho qua la zona ottima a meno che non le piazzo qui ne fa 13 non so se conviene vediamo un po' aspettate ci costano 12.200 per week per settimana queste 6.080 no andiamo con le classiche che ne fanno 8 comunque perché noi in quella zona non saremmo mai riusciti a farlo al meglio quindi sfruttiamo questa zona qui ricca di vento per paleoliche con la pala come si dice in questo caso ok abbiamo speso millemila dollari con le paleoliche mo se mo devono star bene per un bel po' non rompessero i maroni paleoliche così a gratis perfetto più avanti qui c'è la cosa che pian piano te le sblocca ragazzi i vari trasporti i treni si possono fare la metropolitana si possono fare gli aeroporti non lo so non ci sono arrivato cioè ancora non li ho visti io poi per conto mio mi sono fatto anche una mezza partitina così tanto per vedere un po' come si sbloccavano le cose però ancora non ci sono arrivato neanche io allora ci richiedono ancora un altro poco di zona commerciale questa zona qui in realtà non c'è niente o sbaglio allora facciamola qui la zona commerciale che ci può anche stare perfetto zona commerciale andata gli autobus facciamo un po' più avanti perché con gli autobus abbiamo delle serie di difficoltà come vedete ci sono autobus metro treni cos'è questo barche e aeroporto si ci sono noi ancora non li sblocchiamo però ci sono vediamo quanto tempo ci vorrebbe sbloccarli va bene non lo so se in realtà se ci sono catastrofi naturali per il momento ancora non ne ho beccate qui vabbè ci dice ah ok possiamo fare i parchi che oggi già abbiamo visto forse in video e qualche parchetto io lo andrei a mettere perché no no questo è gigante che cos'è qualcosa di più piccolino perché magari andiamo a sacrificare qualche casa però come vedete hanno un'area di impatto abbastanza grande quindi vanno a rendere felici un po' tutti e soprattutto ci vanno ad aumentare anche il valore della zona quindi ne mettiamo un bel po' se riusciamo mi spiace per questi che abitavano qua riusciamo a piazzarlo da qualche parte senza senza ammazzare mille mila persone vabbè scusate voi qua che state abusivissimi dai che cos'è mi serve lo spazio ne metto qualcuno qui perfetto anche perché le industrie sono vicine quindi abbassano un po' il valore della zona noi invece piazzandoci questi parchi cerchiamo di aumentare sono ancora rocussi soprattutto qui vabbè scusate però per sacrificare bisogna per forza fare una cosa del genere va bene ok parchi pronti ospedali uno l'ho messo quindi più o meno stanno abbastanza bene ci vorrebbe un cimitero da qualche parte il casino non lo so se ci sono il gioco preferito è naturalmente Metal Gear Solid per Playstation 1 pompieri ce n'è una ma lì stanno messi male perché è la zona industriale quindi guardate vi piazzo una cosa dei pompieri proprio qui almeno nel caso succedesse qualcosa ce l'avete preciso preciso ok adesso ci stanno richiedendo un po' la zona industriale quindi possiamo andare a vedere di nuovo questa zona abbastanza fertile anzi molto fertile quindi la andiamo a sfruttare per costruire qui la zona industriale industriale poi andremo a costruire il nostro distretto che ci permetterà di scegliere che tipo di industrie andranno ad occupare la zona ora aspettate perché qua dobbiamo fare tutto un po' in di traverso perché siamo partiti di traverso dobbiamo proseguire di traverso se no andiamo un po' più in qua magari riusciamo qui ok facciamo un'altra da qui perfetto andiamo a ricontrollare le risorse ci siamo ancora nel pieno quindi facciamo un'altra di strada anche da qui e siamo arrivati a 4200 ci ha sbloccato qualcosa di nuovo l'industria del petrolio qualche altro tipo di strada edifici cosa ci ha sbloccato quartier generale della polizia la stazione dei pompieri un po' più grandicella la centrale elettrica che va a petrolio noi però al momento non abbiamo il petrolio e l'ospedale perché al momento abbiamo solo la clinica va bene ci ha sbloccato un bel po' di cose interessanti certo c'è da dire che ci vuole la moneta qua per fare tutto ok la zona fer si questa è uscita un po' storta la strada ma non fa niente che ci frega la zona fertile c'è cosa dobbiamo fare per farci mettere le industrie le varie zone perché altrimenti se mettiamo solamente industrie è probabile che ci vada a costruire qualcuno che fa qualcosa di inquinante allora dobbiamo andare qui e selezionare distretto andiamo con questa icona che magari possiamo anche ingrandire e andiamo a selezionare tutta questa zona facciamo così poi aspettate che proseguiamo con un po' più piccolino perché facciamo l'angoletto perfetto e questa zona la dedichiamo come vedete c'è zona dedicata all'industria del penso del legname perché nelle zone dove c'è la foresta quindi poi c'è questa qui per le varie cose tipo allevamenti eccetera eccetera che è quello che possiamo fare noi qui il grano la frutta presumo cose del genere quindi andiamo a piazzare questa qui si chiama linden hill poi c'è quella dei metalli quella del petrolio e quella classica in generale zona industriale noi facendo questa cosa dei distretti andiamo a dire che questa zona se ci vanno le le industrie devono andarci industrie che si occupano di fattorie e cose del genere visto che la terra è fertile facciamo con questo pennacchio in modo tale che selezioniamo un po' tutto anche da quel lato no da quel lato no se no si vanno a piazzare sulle paleoli che fanno dei danni manteniamoli qui dentro adesso dovremmo portarli anche eh vabbè con questa non è semplicissimo ogni tanto facciamo dei danni dobbiamo portarli un po' di elettricità vabbè che ce l'hanno già di lato quindi forse ce la risparmiamo la cosa se riescono farci risparmiare un po' di tralicci non sarebbe male ok perfetto e questa zona dedicata all'industria di allevamento e altre cose va bene va bene no bulletstorm lo conosco ma non non lo farò non mi piace molto sta andando a fuoco tutto qui un'altra stazione dei pompieri conviene metterla proprio da questo lato perché possiamo mettere il quartier generale guardate lo piazzo lo spazio è già occupato lo piazzo qua quartier generale dei pompieri per fare tutti felici e contenti grandissimi aspettate che dobbiamo portare l'acqua qui sopra vabbè più o meno ci stava già quasi arrivando ok no qua non neanche lo ricollegiamo facciamo così direttamente tanto non c'è neanche bisogno in realtà di ricollegarli io lo faccio giusto per ok perfetto perfetto allora allora vediamo come siamo messi allora l'acqua in realtà ce ne servirebbe un po' di più come vedete siamo sul giallo sia per quanto riguarda l'utilizzo di acqua sia per le acque di scarto quindi cosa andiamo a fare andiamo a piazzare un'altra pompa dell'acqua la mettiamo qui visto a monte rispetto alla zona inquinata e la colleghiamo al ce la facciamo ok al sistema centrale adesso dovrebbe aumentare in linea teorica vediamo vediamo si infatti è arrivata al massimo e stessa cosa facciamo qui con le acque reflue che stiamo facendo una porcheria però dobbiamo pur farlo da qualche parte dobbiamo buttare st'acqua e ricolleghiamo anche questa lo facciamo in questo modo perché altrimenti troppo vicino non ce lo fa fare perfetto adesso in teoria anche le acque reflue dovrebbe aumentare un pochino eccolo lì perfetto siamo a posto poi l'elettricità siamo sempre lì al limite comunque maledizione quindi